La possibilità di avere certificati anagrafici in tabaccheria permetterà di alleggerire i problemi dell'ufficio anagrafico comunale a Via Roma, problemi più volte denunciati dall'utenza, costretti a lunghe fili e appuntamenti a grande distanza, sia per le carte d'identità che per altri documenti a causa dell'esiguo numero di personale. Il tema, per la verità, ha infiammato le cronache per tanto tempo in città a causa della congestione degli uffici. Oggi però la prima estrazione di certificati anagrafici presso le tabaccherie, grazie all'accordo tra Comune dell'Aquila, IGT e la Federazione Italiana Tabaccai, la FIT, è una buona notizia per il cittadino. L'iniziativa è stata presentata nella tabaccheria di Coppito in Piazza Rustici, per ora sono 10 le tabaccherie che hanno aderito all'accordo. Il servizio è importante, alleggerirà gli uffici comunali, ma sarà senza dubbio un grosso vantaggio per la popolazione che potrà fruire di questo servizio innovativo a portata di mano, sotto casa, in strada e con ampia diffusione sul territorio. Tecnicamente come funzionerà? Il cittadino si regherà in tabaccheria, richiederà un certificato per sé o per altri, mostrando la documentazione, i propri documenti, pagando un piccolo contributo di 2 euro e riceverà un certificato anagrafico comunale. Si tratta di un servizio assolutamente innovativo che permetterà all'utente con pochi minuti di avere il proprio certificato. Il SED, partecipata del Comune dell'Aquila, ha dato il suo contributo in questo processo per la parte tecnica, cioè per la configurazione del server. C'era anche il sindaco Pierluigi Biondi, che ha partecipato alla prima estrazione, convinto che certe sinergie siano necessarie per ottimizzare l'erogazione dei servizi all'utenza e si va sempre più verso una grande digitalizzazione. Roberto Saracino ha rappresentato l'IGT, che si è occupato della tecnologia. All'Aquila ha detto abbiamo trovato terreno fertile per integrare le nostre tecnologie. Un passo importante, questo, nella direzione della Smart City. È un modo per semplificare la vita ai cittadini, per decongestionare gli uffici comunali e per avvicinare il Comune ai territori, soprattutto a quelli più periferici, soprattutto quelli in cui ci sono persone più anziane che magari hanno difficoltà negli spostamenti. Io semplicemente penso alle mamme di famiglia che non hanno bisogno di prendere un giorno di permesso dal lavoro o che non devono chiamare la babysitter per tenere i figli due o tre ore, per fare il viaggio fino agli uffici comunali. Grazie. Grazie. Grazie.